È il momento di dare spazio alle nostre straordinarie capacità, a chi, cosciente della propria storia, vuole creare giorno per giorno uno splendido presente. Oggi, viabilità e infrastrutture. Oggi, risanamento delle casse comunali. Oggi, trasparenza e servizi per i cittadini. È il momento di costruire il nostro successo. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS